Saluti a tutti, oggi siamo venuti a trovare i pixelini, sì sì, eccoli qui, i bimbi pixel, eccoli, ccbù, qui abbiamo un maschiettino, sì, fratellino, questo al centro, lei è una femminuccia, eccola, un'altra bimba, la cicciottina, tutti e tre, qui a passeggio. Va libera, non giocate più? E mamma? Mamma, eccoli mamma che controlla, perché mamma non può mancare, giustamente, saluti a tutti da Cuccioli e Allevamenti.